Buongiorno traders, sono Giuseppe Cericola, trader e referente italiano per il Broker Tic1000. Faccio questo breve video per invitarti al prossimo webinar didattico perché sarà un webinar molto operativo e infatti faremo trading live attraverso due approcci differenti. Uno pensato per il trader sottocapitalizzato, magari anche con una leva bassa, come potrebbe essere questo conto che vedi qui sul mio schermo e capiremo se c'è la possibilità di impostare un'operatività seria e sostenibile nel tempo attraverso un approccio che io ho definito anti-griglie perché ha l'obiettivo di operare in modo contrario alle famose griglie che hanno il grave difetto, a mio avviso, di operare con una gestione del rischio completamente sbagliata. L'altro tipo di operatività invece che voglio proporre sarà dedicata a questo tool che vedi qui, che si chiama Termometro Forex Pro e permette di tenere sotto controllo con un'unica schermata il mercato delle valute. Questo tipo di operatività magari adatta a conti capitalizzati perché permette la gestione separata dei vari basket, che poi spiegheremo nel dettaglio che cosa sia, però dà la possibilità di costruirsi dei portafogli di strategie, ad esempio strategie trend following o contrarie, in un unico conto trading. Ad esempio si può decidere di aprire un determinato basket, adesso lo faccio vedere solo a livello didattico per fare apprezzare le potenzialità di questo tool. Ad esempio se volessi comprare questa debolezza della sterlina, con un solo pulsante io posso comprare l'intero basket della sterlina contro tutte le altre valute e quindi il Termometro Forex mi va a piazzare questi ordini su tutti gli altri cross oltre a quello contro il dollaro. Inoltre con un solo pulsante potrò decidere di andare ad operare direttamente sull'indice valutario della sterlina attraverso questi pulsanti che vedi sulla destra che permette appunto un'operatività diversa con inserimenti dipendenti oppure di ordini limit oltre a andare ad impostare delle profit line o degli stop loss. Vedremo tutto questo mercoledì prossimo quindi ti do appuntamento alle ore 19 per questa sessione live ma anche didattica e tutto il materiale quindi compreso il Termometro Forex verrà dato gratuitamente ai partecipanti. Inoltre questo tipo di operatività sia questa che quella per il sistema anticriglia verranno monitorate attraverso dei conti MyFXbook per avere un resoconto statistico e oggettivo. A mercoledì prossimo!